La mia presentazione è un'applicazione di quello che abbiamo sentito stamattina, quindi quello che stiamo facendo nell'ambito di un progetto CCM sui temi della valutazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'inquinamento atmosferico in Italia. Il progetto Vias è appunto un progetto CCM, quindi finanziato dal Ministero, che coinvolge cinque regioni, il Lazio, il Piemonte, la Toscana, le Marche e l'Emilia Romagna e è un progetto in corso di opera, quindi io più che portarvi dei risultati ci terrei a farvi vedere le fasi come abbiamo lavorato. Il framework qual è? Come sappiamo il 2013 è stato l'anno dell'aria e che il problema dell'inquinamento atmosferico e della qualità dell'aria sia un problema complesso sia per l'impatto sull'ambiente che quello sulla salute non sono certo io che lo vengo a spiegare a questa platea. Come faceva vedere Francesco l'Embriamental Burden of Disease, il PM2,5 nella torta è responsabile di una gran fetta dell'impatto sulla salute e mi fa piacere anche citare il progetto AFECOM che ha valutato invece gli effetti sia short term che long term in 25 città, tra cui Roma, proponendo quindi una valutazione di impatto. Ma che cosa manca a questa logica? Manca la valutazione integrata appunto che mette insieme la componente ambientale e quella sanitaria. Quindi considerando sull'esempio del progetto Intarese che stamattina Francesco Forastiere ci ha spiegato, quindi la metodologia proposta da Briggs, tutti i passi che partono dalle politiche, quindi dalle scelte, qualcuno decide, alle fonti di esposizione, come queste esposizioni si manifestano nell'ambiente e agli impatti che queste hanno sulla salute. Quindi salterei Intarese perché ce l'ha già spiegato Francesco, è un esercizio che comporta l'integrazione delle conoscenze a un ottimo livello sia della parte tecnica ambientale che della parte invece dell'impatto sulla salute. E quindi il progetto Vias che vorrebbe nell'intento porre le basi per una valutazione integrata dell'impatto dell'inquinamento atmosferico su ambiente e saluto in Italia, lavorando e usando modelli, quindi modelli ci faceva vedere sia Andrea Bolignano di Arpalazio, che su base nazionale o locale ci consentono di avere le mappe di concentrazioni degli inquinanti al suolo. E gli inquinanti oggetto dello studio sono il PM, nelle sue componenti 10 e PM 2,5, l'eno 2, l'ozono, il somo 10 e il somo 35. Quello che poi manca e che fa di Vias una valutazione integrata è lo studio degli scenari, cioè che cosa succede rispetto a una situazione di baseline se alcune scelte comportano una riduzione dell'inquinamento atmosferico. Il nostro obiettivo è quindi di proporre la metodologia, un progetto CCM, vogliamo produrre un metodo che possa essere poi utilizzato da altri in Italia. Quindi come gli ingredienti, dobbiamo caratterizzare la popolazione potenzialmente coinvolta, vi farò vedere, e in più c'è un appendice che ci parla dello stato di salute delle persone che abitano in Italia nei pressi di strade d'alto traffico. Allora, che cosa serve? Prima cosa servono le concentrazioni e qui, lavorando con Enea, utilizziamo il modello di dispersione mini, che appunto non abbiamo tempo di spiegare nel dettaglio, ma che nei fatti, partendo dagli inventari di emissioni di Ispra, scalandoli a livello regionale o provinciale, ci restituisce la mappa delle concentrazioni al suolo. Questi sono i dati di mini rielaborati da noi, dal nostro esperto GIS, che è Chiara Badaloni e che ringrazio moltissimo per tutte le slide che mi ha regalato, e queste sono le concentrazioni di PM2,5 e di PM2,10 con la situazione che tutti conosciamo, la pianura padana tutta rossa, le grandi città e alcune aree industriali del sud. Qui abbiamo la mappa appunto dell'NO2, dove vengono fuori principalmente le grandi città e l'ozono con il suo gradiente, in cui insomma il sud è più colorato rispetto al nord. Questa è la situazione ad oggi, le emissioni al baseline producono queste concentrazioni. Ecco, questo invece è l'esempio delle città, non ho detto che la griglia che utilizza mini è una griglia 4x4, che quindi ha anche dei limiti, per esempio vedete sul Milano ci sono pochi quadrotti 4x4 e la situazione è sostanzialmente questa, diversa, scusate sono ovviamente microgrammi a metro cubo, questa è la situazione di una città come Roma e questa per esempio la situazione della città di Taranto. Il secondo ingrediente è la valutazione della popolazione esposta. Come lavoriamo? Noi lavoriamo sui dati del censimento, adesso la settimana scorsa sono usciti i dati del 2011, ma quello che vi faccio vedere è relativo a quello che avevamo un anno fa, cioè i dati del 2001, con un'assunzione che ci sia una distribuzione omogenea della popolazione in ciascun blocco censuario, che non è tanto grande, in media parliamo di circa 800 metri quadri. Che cosa facciamo? Sovrapponendo, quindi qui il GIS ci aiuta tantissimo, la griglia delle concentrazioni in questi quadrati 4x4 alle sezioni di censimento, che quindi ci dicono dove stanno le persone, scusate, dove stanno le porzioni, possiamo stimare il numero di persone in ogni griglia, quindi esposti a quel quadrato di concentrazione. Un altro modo è stato quello di usare il database Corin, che ci dice, perché volevamo anche dividere la popolazione italiana in esposti alle aree urbane, quindi residenti in aree urbane e residenti in aree non urbane, con appunto il dataset al 2006. Quello che ci viene fuori è che in Italia appunto il 35,9% delle persone risiede in aree cosiddette urbane e il 64,1% in aree non urbane e questo insomma direi che ci torna e che darà atteso. Dai modelli di dispersione, quindi dalle concentrazioni al suolo, io adesso da adesso in po' anche per brevità vi faccio, perché insomma non vorrei tenere troppo il tempo, vi faccio, parliamo soltanto del PM2,5, questa è la distribuzione del PM2,5 in Italia e quando l'andiamo a vedere tra aree urbane e non urbane abbiamo delle concentrazioni medie nelle aree urbane di 27,4, microgrammi a metro cubo e 15,1 come appunto medi annuali e chiaramente con dei valori minimi e massimi e molto variabili tra le città nord, centro e sud, grandi città e piccole città. Oggi Francesco Forastieri mi sembra parlasse del rischio accettabile, io qui senza andare troppo accettabile o meno, però l'OMS ci dice che per il PM2,5 non bisognerebbe essere esposti a più di 10 microgrammi a metro cubo e qui in Italia solo il 21,9% della popolazione è esposto ad una soglia che il WHO ci dice possiamo stare sicuri, variabile età nord, centro e sud, ma come potete vedere c'è anche una grande fetta della popolazione, cioè il resto, tutto l'80% è esposto a livello superiori e il 25,3% superiori addirittura ai 25 che è il valore che ci dice la direttiva europea e anche qui con forti variabilità nord, centro e sud, grandi e piccole città. Volevo far vedere, questi invece sono i valori del PM10, abbiamo l'8% della popolazione in Italia che è esposta a valori superiori, per l'NO2 addirittura 12 più 8, più del 20% esposti a valori superiori sia appunto a livello del WHO che alla direttiva europea di 40 microgrammi a metro cubo. Qui era soltanto per farvi l'esempio come lavoreremo per definire la popolazione esposta al traffico utilizzando come concentrazioni sempre il database di Minni e poi utilizzando l'Atlante di Teleatlas che è quello che è alla base dei TomTom che tutti abbiamo in macchina e che siamo riusciti a caratterizzare quindi la popolazione come residenti ad una distanza, qui non possiamo andare oltre, non abbiamo un modello di dispersione legato al traffico, ma possiamo caratterizzare le persone come vicine, quindi esposte a delle strade ad alto traffico e invece più lontane. non avremo in studio le strade locali perché non abbiamo dati sui flussi di traffico, anche qui appunto con questo metodo dell'interpolazione è possibile calcolare la quota di esposti. Vado avanti per dire qual è il contributo aggiuntivo dell'inquinamento atmosferico, per prima cosa dovremmo sapere vabbè ma come sta la popolazione in Italia e quindi qui utilizzando dei database che ci danno i tassi di mortalità specifici per cella e per classe di età, abbiamo fatto un quadro, questa è la mortalità, questa è tutta la mortalità, quindi cause naturali, esclusi traumi, che chiaramente non sono in studio in questo contesto, com'è il tasso del punto grezzo di mortalità per 100.000 abitanti, qui ognuno può riflettere se ci vede o non ci vede un gradiente, ma comunque forse qualche differenza scuro o chiaro, un pochino si vede. Quindi è su questa base, su questo baseline di stato di salute che il nostro progetto calcolerà l'incremento, quanti sono i casi in più attribuibili alle particelle e agli inquinanti che stiamo studiando. Le funzioni concentrazione e risposta sono state già presentate stamattina da Francesco, mi fa piacere citare i due progetti dell'Unione Europea, Reviap e Rapie, non so come si dica, Rapie forse, dove alcuni esperti sono stati messi intorno a un tavolo per un anno e gli è stato chiesto, signori diteci quali sono le funzioni concentrazione e risposta che dovremmo usare noi, Unione Europea, nel futuro per calcolare il rischio in più legato agli inquinanti. Loro si sono riuniti, hanno lavorato per un anno e hanno prodotto dei tabelloni in cui classificando le evidenze come sufficiente, quindi A con l'asterisco oppure come B, abbiamo ancora qualche dubbio, gli studi disponibili non ci dicono ancora molto, sono stati forniti dei coefficienti, per esempio tra PM2,5 e mortalità naturale, una grande metallatisi, ci diceva fino a un mese fa, due mesi fa, che il rischio era un incremento del 6% di rischio di mortalità naturali e via dicendo la tabella è disponibile per tutti gli inquinanti. Nel frattempo però sono usciti i risultati del progetto Escape, per chi non lo conosce è un grandissimo progetto di corte, quindi dal punto di vista dell'epidemiologia siamo in grado di attribuire un effetto a un'esposizione, avendo studiato nel tempo una corte di tantissime persone residenti in tanti punti in Europa, sono stati fatti degli aggiornamenti, quel 6% già non va più bene perché per esempio è un po' più alto il rischio, l'Escape ci dice che appunto è leggermente più alto, altri studi, questo lo porto perché appunto è un progetto del nostro Dipartimento che sono molto orgogliosa di quello, sull'incidenza ci dà anche delle stime diverse, quindi è probabile che andrà aggiornato, non è più quel 6% in più ma dovremmo mettere dentro anche questi risultati per avere la miglior funzione concentrazione risposta, anche per l'effetto del traffico sono disponibili delle concentrazioni, direi che abbiamo tutti gli ingredienti per calcolare il numero. Il numero, che cosa usare? È appena uscito, questo è proprio di adesso, non so, 10 giorni fa che l'Unione Europea appunto ci dà un numero, 7 milioni di morti che non si dovevano verificare legati all'inquinamento atmosferico, ecco forse come diceva stamattina Francesco non è soltanto questione di usare il numero, forse anche Fabrizio, dei casi, ma ci importa appunto dare invece un'idea del deli, cioè di quanta vita per disabilità le persone che fortunatamente non muoiono però si portano a causa dell'inquinamento e finisco perché non ce l'ho io i risultati, non abbiamo ancora fatto la stima dei casi, però gli scenari, perché credo sia anche importante avere questo quadro, sempre utilizzando in collaborazione con Enea, utilizzando le concentrazioni di minni e gli scenari emissivi che vengono messi nel software gains, nell'approccio gains, che quindi tiene conto delle attività produttive, delle scelte energetiche che ogni nazione ha dovuto fare e quindi anche l'Italia e abbattendo per opportune strategie di controllo, quello che viene fuori è questa situazione, questo è lo scenario per gli NOx e si apprezza una diminuzione, cioè le scelte che sono state fatte sia a livello locale di diesel o altri tipi di fattori legati all'industria, ma soprattutto direi di diesel, quindi passaggio dall'euro 1 all'euro 5, ha fatto sì che l'NO2 si sia abbastanza abbattuto, però questo forse la conoscete tutti, la stessa cosa non si può dire sul PM2,5, sostanzialmente lo scenario è pressoché stabile e questo è probabilmente, come vedete, è il civile, è questo verde e quindi è il riscaldamento, probabilmente le biomasse e le combustioni e su questo dovremmo riflettere perché se lo scenario non cambia l'effetto che io vedrò alla fine è quello che avevo al baseline e qui forse bisognerà rivedere alcune politiche localmente o addirittura a livello nazionale per far sì che lo scenario ci dica che il PM2 si abbasserà e queste sono le mappe risultanti, quelle al 2005, al baseline e al 2020, questi sono gli NOx e questo è il PM2,5. Solo altre due slide, la formazione. Il progetto Vias tiene molto, come tutti i progetti CCM, alla formazione. Abbiamo fatto un corso diviso in tre settimane, c'erano anche tante persone che oggi sono presenti e veramente erano presenti tecnici di ARPA e ISPRA e tecnici dei dipartimenti di salute e quindi è anche al momento della formazione che scambiare le esperienze serve a crescere e a creare questa cultura di ambiente e salute. Non so se è stato un pilota, cioè il primo di una serie di corsi che ripeteremo o un'esperienza unica, però per chi c'è stato è stata veramente un'esperienza bella. L'altra cosa è la Casa della Comunicazione, il nostro progetto ha un sito dedicato sul quale metteremo e stiamo mettendo tutto quello che stiamo producendo. Concludo dicendovi che adesso vi ho parlato di questo core, cioè che è proprio l'impatto, ma in realtà le altre unità operative del progetto valuteranno l'incertezza. C'è un caso studio a Roma di ISPRA sull'impatto delle polveri ultrafini, il corso di formazione ve l'ho detto, l'Emilia Romagna, Vias a livello locale, abbiamo con Arpalazio modelli di dispersione a livello locale per situazioni particolari tipo i porti, gli aeroporti, le discariche e un grande contributo dell'influenza del verde urbano perché le piante ci aiutano, perché sono in grado di mitigare per tanti versi gli aspetti. E quindi concludo ringraziando di cuore tutte le unità operative, e qui ci sono solo i coordinatori e i responsabili delle linee progettuali, ma c'è dietro tantissimo lavoro di tante persone e spero di avere l'occasione di presentarvi i risultati quando ci saranno. Grazie. 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 Grazie.